il primo traccio un po' vai ma guarda vai tranquillo facciamo guarda se ti avvicini un goccino alla bova della sacla così almeno li becco giusti va bene qua? è perfetto oh gira no 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 non tu diceva lei da che cazzo va? ora se non ci viene attorno cazzo cazzo